Rosario Livatino vive attraverso questi ragazzi giovani che hanno seguito con tanto interesse una situazione impegnativa importante e nei loro occhi ho visto la speranza, ho visto la voglia di cambiare la società e noi possiamo cambiarla solo ripartendo dai giovani. Se partiamo dai giovani che ci credono, che lottano, è possibile una società migliore. Noi magistrati, le forze deludine, facciamo il nostro dovere, cerchiamo di farlo al meglio, però è la società che deve vincere il male, deve vincere la criminalità, deve vincere la mafia, la camurla, Andrangheta che purtroppo non sono solo nel sud ma sono in tutto il mondo e in tutta Italia.